Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Continuano i video a rotta di collo che stanno uscendo tutti nella giornata di oggi per festeggiare l'anniversario del canale. Avevo promesso già da tempo in memore che avrei fatto molti video sulle tartarughe ninja, non ne ho ancora fatto neanche uno, me ne scuso tantissimo. Oggi ne ho già fatto uscire uno di Toys and Unboxing. In realtà vi ho fatto vedere tutta la mia collezione di giocattoli che avevo da bambino, quelli che si sono salvati e quelli che ho cercato di recuperare ai mercatini, più i quattro personaggi base della serie 2012. I personaggi base della prima versione, prima ancora che uscisce la serie, sono fantastici. Andate a recuperare il video che è uscito più o meno un'oretta fa. Ma qui vi sto mostrando tutt'altra cosa. Qui ragazzi si parla proprio di collezionismo, si parla proprio anche, credo, di malattia. Però qua ragazzi abbiamo a che fare con delle vere e proprie action figure in realtà, perché sono anche semovibili, non sono statue, sono proprio, si possono mettere appunto in pose d'azione. E passiamo parlando della versione della NECA, delle tartarughe ninja, delle Teenage Mutant Ninja Tartors, Tartors della NECA. Ci sono diverse versioni di queste tartarughe ninja. Io sono riuscito a recuperarle da... ringrazio il grandissimo Tommaso che me le ha vendute. Ho conosciuto questo ragazzo appunto in una pagina Facebook che poi vi metto in descrizione per lo scambio, la vendita di giocattoli antichi, nuovi, a tema tutto tartarughe ninja, o che dir si voglia. Quindi vi metto in descrizione il link se siete interessati. Questo carissimo ragazzo che è un fan appassionatissimo di tartarughe ninja mi ha venduto questa versione delle NECA, che sono la versione in scala 1.4, versione introvabile ormai, o quantomeno se la trovate, la trovate a dei prezzi davvero elevati. Questa versione la riconoscete subito da due fattori, poi andiamo bene nello specifico. La riconoscete innanzitutto... anzi, sto un pochino... ecco sì. La riconoscete innanzitutto dall'altezza. Stiamo parlando di 40 centimetri di puro piacere. Ecco qua. Contro... ok. La faccio vedere, adesso vi faccio vedere il metro da vicino. Ok. A differenza delle altre, che dovrebbero essere all'incirca, credo, alte così, più o meno la metà. E poi l'altra cosa, fattore molto importante, le bandane, le fasce delle bandane sono in stoffa, mentre le altre sono in plastica, come tutto il resto. Mi mando comunque il movimento della stoffa. Mi avvicino un po', dato che adesso ve li faccio vedere più da vicino. Vedete come sono in stoffa. Sono nella fantastica stoffa che tra l'altro c'era anche nel film, quindi questa specie di... Non me ne intendo di stoffe. Non me ne vogliate cosplayer. Se sapete darmi un nome a questa stoffa, perché io direi seta, ma mi sembra un po' strano. Forse è lino? Non lo so. Come dicevo, sono action figure, quindi sono tutte articolate. Sono in posa. Io le ho messe in posa con le armi, cercando sempre di riportare la posa del primo numero di tartarughe ninja, che magari vi metto qui così avete un'idea della posa che vorrei dargli. Potevo anche usare di più, però ho paura a muoverle troppo, perché comunque sono davvero molto difficili. Sono molto stabili. Che più che meno. C'è un raffello un po' loose, ma presumo perché chi l'abbia acquistato prima di me lo abbia sfruttato davvero tanto. E ha fatto molto bene. Le gambe sono molto stabili, abbiamo un'articolazione, due, tre, totalmente movibile, quattro. Come vedete anche, guardate il dettaglio delle ginocchiere, sono davvero spettacolari. La cintura, che è realmente messa, non è stampata sopra. Questo spiega anche la realtà, per cui è molto in alto come nel film. Vi ricordate che nel film del 90 Donatello e Leonardo, che sono le due tartarughe che hanno la cintura anche laterale, per poter tenere un'arma molto lunga come un bastone boh o come una katana, sono anche le due tartarughe che hanno la cintura molto alta, proprio perché sta molto su la cintura. Questo chiaramente è Donatello, oltre ad avere le figure o anche le scatole, ve ne faccio vedere una da esempio, qui ho quella di Raffaello che ho preparato per voi. Ecco la scatola che potete trovare in originale è fatta così, perché si rifanno proprio al film del 1990. Vi ricordo che per il 1990 nessuna ditta di giocattoli aveva prodotto la versione del film, perché era un film considerato troppo violento, non per ragazzini. Infatti la versione Movie Stars delle tartarughe ninja è relativa al secondo e al terzo film, non al primo. Qua diciamo che ci siamo riscattati con queste fantastiche tartarughe. Volevo farvi vedere all'interno, poi andiamo nel vivo e vi faccio vedere il main show, però volevo farvi vedere all'interno gli accessori che potete trovare. Questo è Raffaello, ma vale per tutte le tartarughe, in tutte le scatole ci sono delle altre mani. Quindi c'è la mano aperta, la mano semi chiusa. Io qua cos'è che ha Raffaello? Raffaello adesso ha la mano molto chiusa per tenere i sai tra le mani. C'è una mano ancora più chiusa. C'è una mano che fa così. Ci sono altre due mani. Ok. E importantissimo, oltre alle armi che ce l'ha addosso, per tutti c'è una fetta di pizza. Tra l'altro... Ah no, neanche Michi ce l'ha, perché l'ho messo con il nunciaco in mano. Che ogni tanto, quando voglio, gli cambio le pose e avevo messo Michelangelo con una fetta di pizza in mano. Quindi nelle scatole troverete anche questi accessori. Bene, vi ho fatto vedere gli accessori. Concentriamoci ora sui personaggi. Donatello. Donatello ve l'ho già fatto vedere, però adesso ci tengo un attimino a togliergli dalle mani l'arma. Così vi faccio vedere anche com'è movibile. Ok. Ecco fatto. Ok, sembra che stava facendo chissà cosa. La bellezza delle armi, ovviamente, che oltre a mettergliele tra le mani, le potete mettere anche nella cintura. Anche se credo che Donatello... No, sì, ci sta. Perché sono un po' lente le corde, però. Sono dei nodi che potete stringere eventualmente. Ecco qua, Donatello con il bastone Bo a spalla, praticamente. E anche qui gli potete cambiare le mani, gli potete mettere la pizza. Per chi è proprio esperto e malato, come me, dei film delle tartarughe ninja degli anni 90, questo è chiaramente il Donatello del primo film, con le guanciotte molto più pronunciate, questo tipo di viola. Non è il Donatello del secondo film. Ok. Tranquillo, io mi sono portato da mangiare. Ok. Passiamo. Aspetta. Che succede, Donatello? Sembra che hai... Sembrava un attimino Forrest Gump. Ecco fatto. Passiamo al Party Dude. Così chiudiamo la squadra B, come venne chiamata, nelle tartarughe ninja del 2012. Con Michelangelo. Passiamo al Party Dude della combricola. Tra l'altro, ecco, se devo trovare un solo difetto di questa collezione, è che tutte le tartarughe ninja sono alte e uguali, a differenza degli attori nel film degli anni 90. Michelangelo era un po' più basso rispetto agli altri, anche per indicare il fatto che era il più piccolino, il più giocherellone. Qui, purtroppo, Michelangelo è alto come tutti gli altri. Persino le tartarughe ninja della serie 2012, che tuttora considero le migliori in assoluto, hanno le altezze diverse. Qui, purtroppo, non hanno mantenuto, non hanno rispettato la scala delle altezze dei personaggi che c'erano nel film. Infatti io cerco di rimediare, tenendolo sempre molto piegato rispetto agli altri, per farlo sembrare più basso. Però, al di là di quello, è comunque una figure di tutto rispetto. Guardate che cosa sono riuscito, con un po' di sforzo, e guardando in internet che si poteva fare, sono riuscito a piegargli il braccio al punto da fargli fare questa mossa con il nunciaco. Mi perdonerete, ma questo non ho voglia di toglierlo, perché sarà davvero difficile poi rimetterglielo a posto. L'altro nunciaco, perché come sapete, Michelangelo usa ben due nunciaco, non solo uno. L'altro è riposto tranquillamente nella cintura. L'ho messo nella stessa posizione, se non sbaglio, è dove lo tiene anche nel film. Il guscio che hanno tutte le tartarughe è fantasticamente identico a quello che hanno usato nei film. Anche la riproduzione delle macchie sono davvero piccoline e semi-trasparenti come nei primi due film, non come quella trasposizione abbastanza brutta a livello di animatronics, di pupazzotti, che c'era nel terzo film, che è stata l'unica che non è stata seguita dallo studio di Jim Henson, che è quello che ha creato i Muppets, mentre nei primi due film c'era questo fantastico costume che indossavano gli attori, molto realistico. Come sempre, il dettaglio su, in questo caso vi faccio vedere, la gomitiera e sempre la bandana di stoffa vera. Appoggiamo i nostri carissimi compagneros, che sono Michelangelo e Donatello. Mi piace, tra l'altro, tantissimo il tipo di rapporto da amiconi che Michelangelo e Donatello hanno nei primi due film rispetto a tutte le altre trasposizioni. Continuiamo con la tartaruga con la quale mi rispecchio di più, anche se non si direbbe dei miei video, ma è la tartaruga con la quale mi rispecchio di più. L'ho scoperta grazie sempre ai film degli anni 90, perché purtroppo è stata la tartaruga ninja più depersonificata nei cartoni animati dell'87, proprio per il suo carattere originale. Raffaello è quello più irrascibile, più ribelle, più violento, se vogliamo. È quello che contesta sempre quello che viene detto dal capo sul campo, che è Leonardo. di conseguenza nel cartone animato prettamente per bambini del 1987 è stato fortemente depersonificato, cioè gli hanno proprio appiattito il carattere, è diventato una sorta di Michelangelo sarcastico della situazione, però non con lo stesso carisma che aveva Michelangelo, purtroppo. Di conseguenza nessuno conosce bene, nessuno che ha seguito i cartoni conosce bene il vero Raffaello, che invece si vede benissimo nelle successive trasposizioni a cartoni animati, soprattutto in quella del 2003, dove davvero ha delle crisi di rabbia abbastanza pericolose, perché sta quasi in una puntata, quasi pugnale a Michelangelo, ma anche nelle altre trasposizioni. E per non parlare appunto anche nei film, anche in quegli orribili prodotti da Michael Bay e anche nella serie a fumetti della IDW. Ecco, vi mostro il... Questo è anche qui, chiaramente, dove si può notare la differenza, è il Raffaello del primo film, non del secondo, anche se la differenza è davvero minima, però vedete, hanno queste guanciotte un po' più larghe e più cadenti rispetto al secondo, dove sono più schiacciati e più allungati. Ha i sai, con i lati tutti avvolti, come nel film, il posto per i sai è qui, magari, ecco, ve lo faccio vedere, qui si può riporre tranquillamente il sai, ecco, occhio alle cinture, perché come dicevo prima, sono delle vere cinture, quindi magari cascano, soprattutto queste qui di Mickey e di Raff che non hanno il... non hanno la banda laterale. Ecco, così può tenere il sai, come lo mostra nella scena in cui ha l'impermeabile nel film. Anche qui, bellissima bandana di stoffa vera, solo la parte dopo il nodo, nodo compreso, questa invece è plastica. L'espressione tipica di Raffaello, che è sempre corrucciata, con i denti che si intravedono, ve lo faccio vedere proprio da vicino, un taglio sulla guancia. Se non ci fosse io, per farvi capire l'altezza delle tartarughe, quasi potreste pensare che sto riprendendo un lattore che ha indossato il costume. Sono riprodotte benissimo. Vi ricordo sempre, prima di finire con il leader del gruppo, vi ricordo sempre che non appena potrò, non appena finirà questa quarantena, è già in programma di girare un altro video a tema psicologia, in questo caso psicologia comportamentale, che è uno studio, una branca della psicologia, ha portato ai caratteri principali delle tartarughe ninja. L'ho già girato con la mia amica, dottoressa Fabiola Salmi, con cui ho fatto anche la live sulla psicologia del Joker, del Joker di Joaquin Phoenix, però purtroppo ho sbagliato io a inserire dei personaggi, ho invertito Leonardo con Donatello nella psicologia, però qual è il punto? Il punto è che i caratteri, le caratteristiche principali di ogni singola tartaruga ninja si applicano benissimo, senza volerlo, perché dubito che Eastman e Laird abbiano mai studiato la psicologia comportamentale, però si applicano benissimo ai quattro archetipi caratteriali che si studiano nella psicologia comportamentale, che solitamente la si studia per quando ci si rapporta con gli altri, per quando come me sia un lavoro che ha a che fare con il contatto con il pubblico, come approcciarsi a determinati modelli caratteriali. E io l'ho poi apportata alle tartarughe ninja, ma si può apportare anche ad altre realtà, ma le tartarughe ninja sono quelle che meglio sposano questo studio, diciamo, quindi poi ve ne parleremo. Concludiamo con Leonardo, Leonardo Leeds, Leonardo guida, Leonardo è ercapetto, qua c'è, sembra quasi che ci sia un nodo anche strano, però come sempre la bandana fichissima, questa parte in plastica, qui tra l'altro si nota un po' una differenza di colore. Anche qui l'espressione di Leonardo, sempre il Leonardo del primo film, come si può vedere, non è il Leonardo del secondo, che ha il muso un po' schiacciato, è fantastica cintura con banda laterale e mi si è addormentata una gamba e porta catane, che adesso vi mostro anche qui, che si possono estrarre e tutto. Tra l'altro non so se avete notato che la location è un pochino diversa dal solito, ma sono nel mio soppalco, dove tengo appunto tutto ciò che ha a che fare con le tartarughe ninja, quindi i miei sai, una katana, dei nunciako, non ho un boh, perché fondamentalmente non ho mai preso un boh, perché non mi è mai servito, al momento che qualunque manico di scopa lo uso come boh, e quindi non ho un vero e proprio boh, però penso che per completare le armi in questo soppalco, prima o poi, lo comprerò qui, ecco come vedete le armi, le catane sono riposte, sono sicuro che se mi impegno potrei addirittura fargli estrarre una katana, vedete non è neanche tanto difficile, potrei proprio fargliela impugnare come per estrarla, cosa che ovviamente non potrebbe fare poi, perché è rigida, cioè una katana vera intendo è rigida, quindi in realtà, non so se lo può fare poi tra l'altro veramente, con questo tipo di impugnatura, vabbè, comunque di certo non lo può poi rificare dentro, non fate caso a Deadpool che è finto, non si possono rinfilare tranquillamente le catane in un appoggio da schiena, comunque ecco vedete anche il nostro impavido leader, con le due cinture laterali, se fate caso al video precedente, dove c'è la serie del 2012, noterete che è un chiaro omaggio, il loro design è un chiaro omaggio a questo design del film degli anni 90, perché Leonardo ha proprio le due bandane separate, mentre Donatello ne ha una unica grossa, vi faccio vedere, chiudo vicino anche qui, le ginocchiere, il guscio, ecco, le avete visti, in tutta la loro bellezza, adesso magari prima di concludere il video, faccio una carrellata con tutti loro e senza di me, e noi ci vediamo nel prossimo video, che uscirà tra un'oretta all'incirca, sempre per festeggiare l'anniversario del canale, quindi restate sintonizzati, magari attivate la campanella delle notifiche, se volete passare insieme questa Pasqua in quarantena, che cade anche con l'anniversario del canale, io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, e a dopo con il prossimo video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.